Lo scorso 7 gennaio il presidente russo Vladimir Putin ha invitato alcune famiglie degli eroi caduti in combattimento per festeggiare il Natale ortodosso nella residenza di Novo Ogarevo vicino a Mosca. La cena è stata seguita dalla celebrazione della Messa del Natale del Signore nella Chiesa della Sacra Immagine. Dopo la cerimonia Vladimir Putin ha raccontato ai suoi ospiti di aver portato da New York un'icona con il volto di Santa Elisabetta Feodorovna Romanova e di averla collocata a Novo Ogarevo dove un tempo abitava la Granduchessa. Questa icona con le reliquie di Santa Elisabetta Feodorovna, ha detto Putin, mi è stata donata dal primate della Chiesa russa ortodossa a New York. L'ho portata qui senza sapere che questa residenza di Novo Ogarevo, prima della rivoluzione, era la tenuta del Granduca Sergei Aleksandrovich Romanov, marito di Elisabetta Feodorovna. E quindi adesso lei è tornata a casa sua, nella chiesetta all'interno di questa residenza, che per il Granduca e la sua esposa era un piccolo santuario familiare. La Granduchessa Elisabetta Feodorovna, nota per le sue opere di misericordia, fu assassinata il 18 luglio del 1918, la notte dopo l'esecuzione della famiglia imperiale. Insieme a quattro membri della famiglia reale e tre parenti, fu gettata viva in una miniera di ferro abbandonata ad Alapaevsk. Nel 1992 lei e sua sorella Barbara furono canonizzate dalla Chiesa ortodossa russa.